Vendi Italia 2024 continua, ci troviamo allo stand della Manea Vending, l'azienda italiana che realizza distributori automatici di nuova generazione e siamo in compagnia di Marco Nicolini, il responsabile operativo dell'azienda. Ciao Marco e benvenuto. Ciao Fabio, benvenuto a te, è sempre un piacere averti nel nostro stand. Per me è un piacere ancora più grosso, credimi, ma semplicemente perché nell'ultima edizione non sono riuscito a intervistare né te né Antonio Nicolini perché eravate sempre estremamente impegnati. In questa occasione siamo al quarto giorno, ti ho strappato via con la forza e ho detto no, almeno in questa edizione, visto che anche in questo caso sono tantissime le novità, mostriamole al popolo del Vending documentandole con le nostre riprese e la tua presentazione. Ok, ti ringrazio Fabio. Io comincerei dalla macchina che abbiamo alle nostre spalle, è una 14 Lambda, è una versione rivisitata della precedente versione Krios e Kairos. sono state rese molto più accessibili al pubblico, ai nostri tecnici e quant'altro, sono state semplificate estremamente di più. Abbiamo lavorato tantissimo sull'efficienza energetica dei nostri distributori, sono tutti in classe C e sono state fatte tantissime migliorie per renderli sempre più ecocompatibili, sempre più energeticamente validi. abbiamo molti progetti, alcuni ci hanno visto impegnati per tre anni per arrivare qui in Fiera, in particolare abbiamo una macchina con erogazione laterale ad altezza disabile, quindi una macchina che favorisce nettamente anche i portatori di handicap, quindi cerchiamo di abbattere un po' anche queste barriere. Questi sono i vari progetti che abbiamo portato, abbiamo portato una macchina IP, quindi certificata contro le intemperie, con getti d'acqua fino a 60 gradi di inclinazione, abbiamo portato macchine con serrature elettroniche per favorire chiaramente il lavoro degli operatori che vanno a fare il refill dei nostri distributori, quindi non avremo più il classico mazzo di chiavi enorme, basterà un'applicazione dal telefono. E questi sono un po' dei vari progetti che abbiamo fatto, un po' di un'infarinatura generale di quello che abbiamo portato qui in Fiera, di quello che abbiamo cercato di esporre al pubblico. Da quanti anni sei in azienda Marco? Quest'anno sono ormai dieci anni, devo dire che è sempre un piacere venire qui in Fiera, ci stiamo mettendo tutto il nostro impegno, è un'azienda a conduzione familiare, quindi è sempre dura, però ce la si fa, ce la mettiamo tutta quanta, ringraziamo sempre anche i nostri operatori, coloro che lavorano per noi, i nostri operai, la gente che comunque ci ha dato una mano a rendere possibile tutto quanto. Che dire, questa è un po' la presentazione della nostra azienda, dei nostri prodotti. Beh, io ti chiedo da quanti anni sei in azienda perché immagino che facendo parte della proprietà tu abbia davvero toccato tutte le tappe all'interno dell'azienda, dalla costruzione, alle pulizie, al settore commerciale, alla progettazione, perché è importante fare davvero tutti gli ste. Certo, è la famosa gavetta, bisogna partire dal basso e poi piano piano si cresce, ma è un'esperienza incredibile che sono contento di aver fatto. E che il pubblico vi premierà in quanto fate dei distributori davvero robustissimi ed estremamente affidabili. Qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso il quale è possibile contattarvi? Allora, possono contattarci direttamente a info.maniavending.it e per qualsiasi domanda saremo sempre lì a disposizione. I nostri distributori, sì, come hai detto tu Fabio, sono resistentissimi, sono in moltissime metropolitane, si veda per esempio la metropolitana di Parigi, sono in tantissimi aeroporti come gli aeroporti della Spagna e devo dire che il pubblico ci ha sempre dato un ottimo risponso e anche i nostri clienti sono sempre tornati da noi, quindi è la più grande soddisfazione che si possa avere. Sì, bella soddisfazione. Marco Nicolini, responsabile operativo di Manea Venning, grazie. Grazie a te Fabio, sempre un piacere.